Come trattare e curare plaque. Come trattare e curare la psoriasi. La psoriasi è una delle più comune di tutte le malattie della pelle, ed è anche molto difficile da curare. Uomini e donne sono ugualmente colpiti da questa condizione. La psoriasi appare di solito tra i 15 e i 30 anni di età e rimarrà per tutta la vita. Tuttavia questa condizione può essere controllato da trattamento naturale psoriasi. La parola psoria si deriva dalle parole greche chiamate psora, che significa aprudere. Questa malattia cronica è non contagiosa e si verifica quando il sistema immunitario invia segnali errati, che innescano la crescita delle cellule della pelle. Entrambi genetica e il sistema immunitario svolgono un ruolo importante nello sviluppo di questa malattia. Si avanza a causa di lesioni della pelle, alcuni farmaci, che scatenano la malattia, e lo stress. Di solito in un corpo delle persone normali, le cellule della pelle crescono in un mese di tempo. Nuove cellule sono prodotte nella pelle e dopo un periodo di 28 a 30 giorni si fanno strada verso l'alto della pelle. A questo punto, le vecchie cellule della pelle muoiono per spugna normale e la doccia. Le persone con diagnosi di psoriasi tuttavia, hanno un diverso ciclo di vita della pelle. L'intero processo di pelle avviene con in 4 o 5 giorni, come il sistema immunitario invia un messaggio non corretto. Così, le cellule morte della pelle vengono spinti sulla superficie della pelle. Le zone colpite sono prurito e irritante. Gravi della psoriasi a placche. Trattamento. Trattamenti per la psoriasi hanno lo scopo di Fermare le cellule della pelle di crescere così in fretta, che riduce l'infiammazione e formazione di placche. Rimuovere le scale e levigare la pelle, che è particolarmente vero per trattamenti topici che si applica alla vostra pelle. Trattamenti psoriasi possono essere suddivisi in tre tipologie principali, trattamenti topici, terapia della luce e farmaci sistemici. I trattamenti si dividono in tre categorie. Attualità, creme e unguenti che vengono applicati sulla pelle. Fototerapia. La pelle è esposta a certi tipi di luce ultravioletta. Farmaci per via orale e iniettato che lavorano in tutto il corpo, sistemici. Trattamenti topici. Trattamenti topici sono di solito i primi trattamenti utilizzati per una lieve o moderata della psoriasi. Si tratta di creme e unguenti applicati a zone colpite. Alcune persone trovano che i trattamenti topici sono tutti hanno bisogno di controllare la loro condizione, anche se può richiedere fino a sei settimane prima che ci sia un effetto notevole. Emolliente. Emollienti sono idratanti e trattamenti applicati direttamente sulla pelle per ridurre la perdita di acqua e coprirlo con una pellicola protettiva. Creme o unguenti steroidi. Creme o unguenti, corticosteroidi topici, steroidi sono comunemente utilizzati per il trattamento della psoriasi da lieve a moderata nella maggior parte delle zone del corpo. Il trattamento agisce riducendo l'infiammazione. Questo rallenta la produzione di cellule della pelle e riduce il prurito. Catrami di carbone. Catrami di carbone è una spessa, olio pesante ed è probabilmente il più antico trattamento per la psoriasi. Come funziona non è esattamente conosciuta, ma può ridurre le scale, l'infiammazione e prurito. Sistemica. Farmaci sistemici sono farmaci che vengono assunti per via orale o per iniezione e di lavoro in tutto il corpo. Essi sono di solito utilizzati per le persone con moderata grave psoriasi e artrite psoriasica. Fototerapia. Fototerapia o terapia della luce, coinvolge esponendo la pelle alla luce ultravioletta su base regolare e sotto controllo medico. I trattamenti vengono effettuati in ufficio o psoriasi clinica di un medico o a casa con l'unità di fototerapia. Fototerapia UVB. Ultravioletti B, UVB, fototerapia utilizza una lunghezza d'onda di luce che è invisibile agli occhi umani. La luce rallenta la produzione di cellule della pelle ed è un trattamento efficace per alcuni tipi di psoriasi. Psoraleni più raggi ultravioletti A, PUVA. Questo trattamento può essere utilizzato in caso di grave psoriasi che non ha risposto ad altri trattamenti. Gli effetti collaterali del trattamento comprendono nausea, mal di testa, bruciore e prurito. Terapia della luce combinata. Combinando fototerapia con altri trattamenti spesso aumenta l'efficacia. Alcuni medici usano fototerapia UVB in combinazione con catramidi carbone, come il catramidi carbone rende la pelle più ricettiva alla luce. Trattamenti sistemici. Questi farmaci possono essere molto efficace nel trattamento della psoriasi, ma tutti hanno effetti collaterali potenzialmente gravi. Tutti i trattamenti sistemici per la psoriasi hanno benefici e rischi. Prima di iniziare il trattamento.